Questi i 22 biancorossi convocati per Bari e Ascoli, dodicesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 28 ottobre 2017, alle ore 15, allo stadio San Nicola di Bari. Portieri, 12, Alessandro Micai, 22, Victor De Lucia, 34, Emanuele Conti, Difensori, 3, Elio Capradossi, 5, Dennis Tonucci, 15, Mattia Cassani, 25, Archimede Morleo, 29, Riccardo Fiamozzi, 32, Norbert Ghiomber, Centrocampisti, 7, Giacopo Petriccione, 13, Giavan Anderson, 20, Aniello Salzano, 21, Andres Felipe Tello Monoztello, 23, Simone Iocolano, 31, Massimiliano Bussellato, Attaccanti, 9, Libor Kozak, 10, Franco Brienza, 11, Cristian Galano, 16, Riccardo Improta, 18, Caramoco Cise, 24, Antonio Floro Flores, 27, Anderson Miguel da Silva Nene,